buongiorno bambini ciao bambini siamo le vostre maestre di lettura di fiabe russe io sono genia e vengo dalla russia io sono katia e vengo dalla bielorussia però dovete sapere che sia in russia che in bielorussia parlano tutti parlano la lingua russa sì è vero come noi sono sicura che avete conosciuto tutti a mascia e orso perché avete visto il cartone e magari avete letto qualche libro però probabilmente non sapevate che questa fiaba mascia e orso è una fiaba russa sì sì proprio così e mascia e orso provengono dalla russia e parlano come noi con genia la lingua russa ci sono poi tante altre fiabe russe con personaggi simpatici divertenti volete fare amicizia con loro ma penso proprio di sì allora ragazzi vi invitiamo in un viaggio nel mondo delle fiabe russe conosceremo amici nuovi e impareremo anche qualche parola in russo siete d'accordo penso che ci divertiremo lo penso anche io ascolta genia io ho pensato di invita invitare insieme a noi anche un personaggio molto famoso personaggio italiano che conoscono tutti tutti i bambini allora che può essere indovina indovina inizia con la lettera p p allora è pinocchio esatto eccomi ciao buongiorno ciao pinocchio come va ciao genia va benissimo come mai sei così contenta e certo perché io vado a guardare il mio cartone preferito e quale quale è ovviamente mascia e orso e così mandella mascia mi piace troppo mi fa ridere e sai vorrei anche conoscerla così possiamo giocare insieme sai però che ci può essere un problema perché 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 mascia vive un po lontano e come lontano dove in russia in russia davvero e dove direi un po lontano allora noi siamo qua in sardegna per andare in russia che è molto grande dobbiamo prendere l'aereo davvero lontano e allora cosa facciamo allora possiamo chiamarla chiamarla e così possiamo parlare non sarà facile neanche questo ma dai perché e come parli con mascia non sai che mascia parla una lingua diversa parla in russo lingua russa sì e come faccio come faccio ma ascolta ma mascia nel cartone parla in italiano ma no certo perché è stato tradotto all'italiano però forse ho una soluzione dimmi 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 vediamo se sarai d'accordo allora io conosco bene mascia e orso posso aiutarti a chiamarli ma per parlare con loro devi imparare un po di lettere e parole in russo sì sì voglio lo voglio benissimo così potrai giocare non solo con mascia ma anche con i suoi amici che bello che bello dai dai iniziamo subito così potrò conoscerle anche io voglio diventare monnella come lei no 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 pinocchio così non va bene esiste una spiegazione perché mascia è così monnella davvero e perché se vuoi ti leggo la fiamma e così capirai il perché sì sì sono d'accordo si chiama mascia e orso come il cartone veramente prima è stata fatta la fiamma e poi hanno fatto il cartone non lo sapevo allora ascolta mascia e orso c'erano una volta un nonno e una nonna che avevano una nipotina di nome mascia un giorno le sue amichette vollero andare nel bosco a raccogliere funghi e bacche e passarono a chiamare anche mascia nonino nonina disse mascia lasciatemi andare nel bosco con le mie amichette il nonno e la nonna risposero vacci pura pura ma bada di stare sempre insieme alle altre altrimenti nel bosco ti perdi le bambine entrarono nel bosco e cominciarono a raccogliere funghi e bacche mascia passando da un albero all'altro da un cespuglio all'altro si spinse lontano lontano dalle amiche cominciò a chiamarle a gridare ma le amichette non la sentivano e non rispondevano mascia girò vagò per il bosco si era perduta per davvero arrivò così nella parte più fitta e più sperduta del bosco d'un tratto vide casa mascia bussò alla porta ma nessuno rispose spinse allora la porta e queste si spalancò mascia entrò nella casa e si sedette vicino alla finestra sulla panca se ne stava lì seduta e pensava chissà chi ci abita perché non si vede nessuno in quella casa ci abitava un orso grande e grosso che in quel momento non si trovava in casa era fuori nel bosco la sera l'orso tornò a casa vide mascia e si relegrò ah disse ora non ti lascio più andare via mi accenderai la stufa mi cucinerai il cibo e mi apparecchierai la tavola mascia si rattristò si disperò ma non c'era niente da fare prese a vivere nella casa dell'orso l'orso se ne andava per tutta la giornata nel bosco e a mascia ordinava di non uscire di casa anche se provi ad andartene dice ti acchiappo comunque e in tal caso ti mangio mascia cominciò a pensare a come poteva scappare dall'orso tutto intorno c'era il bosco non sapeva da che parte andare e non c'era nessuno a chi chiederlo pensò e ripensò e infine trovò la soluzione un giorno l'orso tornò dal bosco e mascia gli disse orso, orso, lasciami andare per una giornata al villaggio voglio portare qualcosa ai miei nonni no, disse l'orso nel bosco ti smarriresti dammi quel che vuoi e glielo porto io e mascia non aspettava altro preparò dei pesticini prese un grosso cesto e disse all'orso ecco, guarda metto i pesticini in questo cesto tu portali al nonno e alla nonna ma vada bene non aprire il cesto e non mangiare i pesticini io mi arrampico sulla quercia e ti tengo d'occhio da lassù va bene, disse l'orso da qui il cesto mascia gli disse vedi un po' fuori se piove appena l'orso fu uscito mascia subito si ragomitolò dentro il cesto e si mise sulla testa il piatto con i pesticini l'orso tornò vide il cesto bel e pronto se lo caricò sulle spalle e partì per il villaggio camminò l'orso tra le abetti si inoltrò tra le betulle scese nei burroni e salì sui cocuzzoli camminò e camminò si stancò e disse questo è proprio il pesticino per mangiarmi un pesticino ti vedo ti vedo non toccare i pesticini non toccare i pesticini porto tutto ai miei nonini guarda che vista acuta disse l'orso vede tutto si rimese in spalle il cesto e andò oltre camminò e camminò si fermò si sedette e disse questo è proprio il pesticino per mangiarmi un pesticino e mascia dal cesto ti vedo ti vedo non toccare i pesticini non toccare i pesticini porta tutto ai miei nonini guarda come furba si è messa bene in alto vede ben lontano si alzò e cominciò a camminare più in fretta arrivò al villaggio trovò la casa dove abitavano il nonno e la nonna e presa a bussare con tutte le sue forze contro la porta toc 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 aprite di casa mascia vi manda dei pesticini i cani che avevano fiutato la presenza dell'orso li si lanciarono addosso abbaiando e accorrendo da tutti i cortili l'orso si spaventò posò il cesto a terra accanto alla porta e scappò nel bosco senza nemmeno voltarsi indietro a guardare il nonno e la nonna uscirono sulla porta guardarono e per terra vederò il cesto cosa mai ci sarà dentro disse la nonna il nonno alzò il coperchio guardò e non crede ai propri occhi dentro c'era mascia sana e salva il nonno e la nonna si rallegrano assai presero ad abbracciare a baciare mascia e a complementarsi con lei per essere stata così furba bella ti è piaciuta? si molto moltissimo adesso hai capito perché mascia fa la monella nel cartone si si penso di aver capito perché voleva tornare a casa non voleva stare con l'orso esatto lei pensava che se facesse la monella l'orso la liberava e lei poteva andare a casa invece nella fiaba lei ha trovato una soluzione diversa si è stata una bambina molto furba e intelligente brava mascia proprio brava ti ho letto la fiaba tradotta in italiano dal russo in italiano ma hai visto come si scrive il nome della fiaba in russo? si si ho visto ma non capisco niente certo perché è scritto in russo vuoi che ti spiego un po' di alfabeto russo? certo certo allora le lettere russe non sono come quelle italiane o spagnole o inglese provengono da un altro sistema che si chiama l'alfabeto cirillico e perché si chiama così? fu chiamato così in nome di chi lo ha inventato Cirillo e viene usato in Russia Bielorussia Ucraina e tanti altri paesi ti ricordi l'alfabeto italiano quante lettere contiene? eeeh fammi pensare forse 26? sì esatto sono 26 quello russo invece ha qualche lettera in più sono 33 lettere davvero? sì vuoi che te le insegno un po' lo sai che ci sono alcune lettere che sono uguale come quelle italiane? sì 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 proprio vedo vedo guarda guarda lì c'è la A la A giusto eeeh ancora 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 la E la E troviamole tutte vedo 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 la K la K bravissimo eeeh la M come mamma la M come mamma ecco la H la H attenzione però la H si legge come N di Napoli che strano la N sì poi ci sono altre due lettere che si scrivono uguale ma si pronunciano diversamente questa che lettera è? eeeh penso che questo è la P questa è la P però in russo si legge come R di Roma che strano ci devi abituare poi c'è un'altra lettera la S tu come la pronunci? la C ovviamente in russo invece si legge la S di Savona la ER e la ES devo ricordare adesso vuoi provare a leggere qualche parola in russo? sì sì certo usiamo quelle lettere che conoscevi già guarda ad esempio la 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 di cot cot bravissimo sai cosa vuol dire cot in russo? no non lo so e che cosa? vuol dire gatto gatto cot 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 bravissimo ancora ancora proviamo un'altra parola proviamo un'altra parola ma mac mac hai visto è facile 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 sa leggere in russo mac vuol dire un fiore il papavero mac cot e mac proviamo ancora adesso ti scrivo altre tre lettere questo sarà difficile allora allora pro h oc 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 ma ti ricordi che c'erano alcune lettere che si leggevano diversamente? questa era la ah sì sì la n la n allora noc noc però anche l'ultima era di quelle lettere strane è vero è vero è vero allora allora fammi pensare nos bravissimo nos nos vuol dire il naso il naso come il mio nos come il tuo che diventa un po' lungo quando dici una bugia non è vero non è vero non è vero io sono bravo sì ci credo e la la prossima la prossima fammi pensare c c c c ti stai dimenticando di nuovo la c si legge come s è vero è vero è vero allora sock 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 esatto sock e sock vuol dire succo assomiglia un po' succo sock sock è vero questo è più facile da ricordare e l'ultima l'ultima allora pot 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 E di nuovo è questa lettera che si scrive ugualmente, ma si legge diversamente. Sì, sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Allora è la R, la R, come rom. Rot, rot. E rot vuol dire bocca. Bocca. Rot è nos. Rot è nos e soc. E soc. Hai visto quante lettere hai già imparato? Sì, 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 molto interessante, molto interessante, mi piace, mi piace. Ascolta, Pinocchio, ma vuoi sentire, vuoi vedere tutte le lettere dell'alfabeto, anche quelle che non conoscevi prima? Sì, certo che voglio imparare, perché così io posso parlare con Masha, posso scrivere anche. Molto interessante tutto questo. Pinocchio, ora proviamo ad imparare tutte le lettere dell'alfabeto russo. Sì, sì, sono d'accordo. Anche quelle che non conoscevi prima. E ci aiuta una canzoncina che canta la tua preferita Masha. Davvero? E ci canta l'alfabeto russo. Sei pronto? Sì, sì, sono prontissimo. Perfetto. Ah, beve, che bello, che bello! Ti è piaciuta la canzoncina? Sì, 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 bello! Adesso che hai imparato tutte le lettere, vuoi che scrivo il tuo nome in russo? Sì, sì, certo! Guarda. Ti ricordi questo è no? Ah, sì, sì, certo che non è la H, la N. No. No. K. K. I. O. Pinocchio, sono io! Pinocchio, che bello! Questo è il tuo nome in russo. Eh, vorrei imparare tutte le lettere. Così, quando incontrerò Masha, le dirò Ciao, ciao, Masha, sono Pinocchio! Ma no, Pinocchio, lo sai che in Russia quando salutano gli amici dicono un'altra parola PAKA PAKA? Sì, quando incontri gli amici gli dici PRIVIER e invece quando li saluti gli dici PAKA Sì, ma quando li incontro allora cosa devo dire? Non ho capito? PAKA o PRIVET? Deve dire PRIVIER quando li vedi, quando invece li saluti e te ne vai devi dire PAKA Ok, ok, proviamo Allora, dico Privet, sono Pinocchio! Privet! Privet, Pinocchio Lo sai che se tu aggiungi la lettera IA ti ricordi quella, l'ultima dell'alfabeto? L'ultima, sì, mi sembra la R rovescio Sì, esatto Se la dici prima del tuo nome ti presenti, dici IA Pinocchio che vuol dire sono Pinocchio Davvero? Cos'è facile? IA Pinocchio IA Pinocchio IA Pinocchio che vuol dire sono Masha Privet, IA Pinocchio e Masha mi dice IA Masha Privet! Privet, Masha Invece l'orso si dice MEDVET in russo MEDVET MEDVET Quindi MEDVET come si deve presentare? IA 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 MEDVET IA MEDVET IA MEDVET Bravissimo Che vuol dire? È divertente Sono orso IA Pinocchio IA Masha IA MEDVET IA MEDVET IA MEDVET IA MEDVET IA MEDVET E adesso ci possiamo presentare anche in russo IA MEDVET Bello, bello IA MEDVET E nella favola c'erano anche nonno e la nonna e loro come si presentano? Bravissimo Nella fiaba c'erano anche altri due personaggi la nonna e il nonno Allora la nonna si dice BABUSCA Magari l'hai già sentito BABUSCA BABUSCA Sì Sono nonna Come si dice? IA MEDVET Esatto IA MEDVET Sta imparando in fretta Invece il nonno si dice DEDUSCA 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 E BABUSCA DEDUSCA E BABUSCA E BABUSCA E quindi IA DEDUSCA Come bisogna dirlo? IA DEDUSCA Bravissimo SONO DEDUSCA DEDUSCA SONO NONNO Non è vero IA PINOCCHIO IA PINOCCHIO Che spiritoso PINOCCHIO Però se tu non conosci non sai che non conosci una persona ancora la puoi chiedere CHI E? KTO ETA KTO ETA KTO ETA KTO ETA Che vuol dire KI E KTO ETA KTO ETA ETA BABUSCA KTO ETA 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 DEDUSCA ETA BABUSCA ETA DEDUSCA KTO ETA 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 BABUSCA ETA DEDUSCA E Ho capito Ma se dimentico ad esempio come si chiama l'orso posso chiedere sempre KTO ETA Certo puoi chiedere KTO ETA però se se parliamo degli oggetti allora deve chiedere deve usare un'altra parola STO ETA che vuol dire cosa è STO ETA STO ETA e KTO ETA e STO ETA KTO ETA e STO ETA ad esempio STO ETA lo chiediamo se vuoi chiedere se vuoi usare una parola della fiamma ad esempio il bosco LES CHTO ETA LES LES CHTO ETA LES ETA LES ETA LES ti ricordi che dolcetti ha fatto Masha per portare ai nonni Sì sì pesticini che buoni che buoni vorrei assaggiarli sì in russo si chiamano PIRAJOK 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 dovrebbe essere molto buono sì sono buonissimi assomigliano ai panzerotti sono dei dolci con la marmellata con le mele ma possono essere anche salati con carne funghi verdura PIRAJOK 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 chiederò Masha di fare per me un PIRAJOK è una buona idea Pinocchio ma adesso ci dobbiamo salutare davvero davvero va bene va bene ti ricordi come si dice ciao quando saluti PRIVET 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 quando li vedi invece quando devi andar via PRIVET PRIVET ciao PRIVET ma no Pinocchio era PAKA come PAKA come PAKA ah si è vero in lingua russa si dice all'inizio PRIVET PRIVET e dopo quando devo andare via devo usare l'altra parola vero? verissimo un'altra parola e quale? ricordami PAKA 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 va bene va bene mi dispiace ma dobbiamo davvero andare io vado a disegnare Masha e Orso bravissimo è una bellissima idea quindi ci salitiamo Pinocchio PAKA 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 amici PAKA ci vediamo alla prossima puntata ciao bambini PAKA bene bambini siccome siamo le vostre maestre di lingua russa cosa danno le maestre? danno i compiti esatto danno i compiti però i nostri compiti saranno molto divertenti vero Genia? certo così c'è più gusto di farle certo e noi abbiamo preparato i fogli da colorare con i personaggi che abbiamo conosciuto oggi la Masha e l'Orso poi potete anche guardare il video con il cartone originale di Masha e Orso in lingua russa sì che potete trovare dalla descrizione del video sotto potete anche ascoltare la canzoncina di Masha che abbiamo già sentito oggi con le lettere quando abbiamo imparato le lettere e poi potete inviare i vostri disegni i vostri lavori all'indirizzo di posta elettronica che è indicato nel video fatevi aiutare dai vostri familiari oppure potete mandarlo anche tramite Whatsapp indicato sempre nel video sì allora aspettiamo con impazienza i vostri lavori e non solo noi abbiamo pensato di premiare premiare i bambini più attivi e alla fine alla fine dei nostri incontri abbiamo preparato una sorpresa sì allora al lavoro quindi lavorate bene ciao 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 Grazie.